Ogni papa venuto dopo Pietro aveva assunto un nuovo nome quando era sceso al trono pontificio. Il debrando di Suana capì subito quale sarebbe stato il suo. In onore dello zio, il deposto papa Gregorio VI, che era stato il suo mentore e il suo colui che tiene al suo gregge. La cosa fu vista dagli astuti politici per quello che era, una potente dichiarazione e una scelta volutamente provocatoria che lanciava un messaggio a Enrico IV e informava a tutti gli altri che la battaglia fra la corona tedesca e la potenza di Roma non era affatto conclusa. Durante gli ultimi giorni di giugno del 1073 furono indette due cerimonie, una per ordinare il neoeletto il debrando al sacerdozio e una per insediarlo sul trono di Pietro con il nome di Gregorio VII. Matilde e Beatrice arrivarono a Roma scortate di tutto punto per assistere alla cerimonia di investitura del nuovo papa e per mostrare il loro incoraggiamento a quell'uomo che era stato tanto solidale con il popolo di Lucca e con il vecchio Goffredo quando era ancora in vita. Mentre Isabella ornava i capelli di Matilde per la cerimonia, Beatrice istruì la figlia sulla politica e l'etichetta che erano richieste per quella giornata. «Senza dubbio saremo in una posizione di spicco quest'oggi. Ecco perché devi curare così tanto il tuo aspetto. Porteremo con noi sostegno di quasi la metà dei signori italiani. Presumo che di conseguenza siederemo in un posto d'onore». Matilde si lisciò la raffinata e sontuosa gonna di seta ridendo. Isabella sorrise della malizia che scorse nello sguardo della sua protetta. «I romani hanno sempre guardato con sospetto i toscani. Si sono sempre sentiti superiori», disse Matilde. «E la cosa peggiore è che qui non permettono alle donne di rivestire ruoli di potere, perciò proverò un immenso piacere nel mostrare loro com'è veramente una contessa toscana. Spero che ci mettano in prima fila, così potremo sfilare davanti ai nobili romani e scandalizzarli tutti». Matilde di Toscana aveva ormai 27 anni, era incredibilmente ricca ed estremamente potente. Stava carezzando l'idea di creare scompiglio nella Roma conservatrice aggiungendo un tocco della vivace cultura toscana alla cerimonia di quel giorno, ricordando allo stesso tempo alla barbosa nobiltà romana che era una delle più facoltose e potenti donne d'Europa. Tutto ciò che innalzava la Toscana agli occhi dei romani e del papa avrebbe giovato a lei e alla sua gente. Ma c'era un grande fondamento dietro quella tendenza a magnificare. Matilde comandava più di diecimila uomini che potevano essere mobilitati in qualsiasi momento sotto la guida sua di esperta stratega. Il sostegno militare di Matilde, unito al suo controllo del valico appenninico, sarebbe stato il fattore determinante in una guerra contro la Germania. Beatrice non era divertita quanto Isabella dalle buffonate di Matilde e ritornò sull'argomento della loro influenza politica. «La tua potenza militare sarà senza ombra di dubbio più interessante di qualsiasi altra cosa per il nuovo papa. Perciò, per quanto il nostro sfoggio di ricchezza sia importante, devi ricordarti che cosa c'è in gioco qui e non farti prendere troppo dalle frivolezze». «Sì, certo, madre». Beatrice trattava ancora Matilde come una bambina, malgrado la figlia governasse mezzo Italia e guidasse le proprie truppe in battaglia. Matilde aveva imparato molto tempo prima ad annuire in modo obbediente in presenza della madre per poi fare esattamente quello che le pareva. Ma in quel caso pensava che Beatrice potesse davvero avere ragione. Dopotutto quel papa era un nobile romano, era probabile che fosse tanto conservatore e barboso quanto i suoi concittadini. Il neoeletto papa Gregorio stava ricevendo una lezione simile nelle sue stanze prima della cerimonia ufficiale di investitura. I suoi consiglieri esaminarono l'elenco degli ospiti influenti e fornirono dettagli su ognuno di loro. «La prossima è Matilde, la contessa di Toscana. Senz'altro avrete sentito parlare di lei, vostra grazia. È piuttosto controversa». Gregorio era assai incuriosito dalla donna che era diventata una leggenda nei territori del nord. Tutto ciò che riguardava la contessa aveva un che di mitico. La sua ricchezza, il suo potere, il suo aspetto, il suo comportamento, che era indubbiamente bizzarro per qualunque signore feudale, ma inimmaginabile per una donna. Non sono i suoi modi stravaganti a preoccuparmi. Quello che mi preoccupa è la sua potenza militare e anche i suoi territori, che sono cruciali dal punto di vista strategico. «Assicuratevi che occupi un posto d'onore. Dobbiamo fare in modo che sia ben disposta nei nostri confronti». L'aveva vista una volta sola alcuni anni prima, quando era poco più di una bambina. Ora era una donna sposata, anche se a detta di tutti era una ribelle che si rifiutava apertamente di riconoscere l'autorità del marito, il duca di Lorena. Questa era una delle questioni che voleva affrontare con lei. Goffredo di Lorena è il cagnolino di Enrico e pertanto è pericoloso, riflette ad alta voce Gregorio. Devo sapere come si pone la contessa nei confronti del marito e devo saperlo oggi. Il suo appoggio potrebbe essere fondamentale nell'eventualità di una guerra. Gregorio si era opposto al re tedesco praticamente ogni giorno da quando questo era stato incoronato all'età di 15 anni. Le tensioni fra il trono sacro e quello temporale, tra la chiesa e la corona tedesca, stavano per raggiungere proporzioni epiche. Il nuovo papa era deciso ad aumentare l'autonomia del papato dall'influenza del potere temporale, mentre Enrico era deciso a unificare i due poteri sotto di sé in quanto sacro romano imperatore. Non ci sarebbero state vie di mezzo, non ci sarebbe stata nessuna possibilità di compromesso per nessuno dei due. In tal caso potrebbe tornare a nostro vantaggio che la contessa Matilde non si comporti da brava moglie cristiana. Se le sue azioni ci consentiranno di salvare la nostra chiesa dalle grinfie di Enrico, sono certo che Dio la perdonerà per qualunque trasgressione abbia commesso. Il glorioso fine giustificherà di sicuro il mezzo usato per raggiungerlo qualunque so sia. Mentre Gregorio VII saliva sull'altare per prendere posto sul seggio, si voltò verso i vescovi, i nobili, i sostenitori lì presenti. Irradiava forza e fiducia in sé quel giorno, il più importante della sua carriera politica. Quello era il culmine di tutto ciò per cui aveva faticato tanto, la ricompensa per anni di esilio e distenti dedicati alla difesa del papato. Pensava che al mondo non ci fosse nulla che potesse eguagliare quella sensazione, mentre saliva quei gradini verso il trono che lo avrebbe reso la guida spirituale più importante del mondo. E poi abbassò lo sguardo. Seduta in un posto d'onore, in primissima fila, c'era la figura più ipnotizzante che avesse mai visto. Matilde di Canossa era seduta accanto alla madre, una visione di seta azzurra. Aveva fili di perle intrecciati ai suoi straordinari capelli coperti solo in parte da un velo di garza. La sua conciatura era fissata da una ghirlanda di flordelli d'oro e pietre preziose, efficace promemoria per tutti i presenti del fatto che Matilde e la madre discendevano dal sacro e illustre imperatore Carlo Magno. Dall'esile collo grondava una fortuna in gioielli. Era talmente mozzafiato che lasciava sconcertati. Gregorio VII era così turbato mentre accettava la chiave di Pietro come simbolo della nuova posizione che dovete distogliere lo sguardo dalla folla per poter mantenere la concentrazione. Il nuovo papa non era l'unica anima confusa fra i presenti quel giorno. La contessa di Canossa, duchessa di Toscana e di Lorena rimase perfettamente immobile e muta durante tutta la cerimonia. Non riusciva a distogliere lo sguardo dall'uomo potente e carismatico che stava ereditando la tiara papale. A catturare la sua attenzione non erano tanto la bellezza eccezionale o il magnetismo che sprigionavano da quella figura virile. Matilde restò sconvolta quando si rese conto di averlo già visto prima in una visione al centro del labirinto appena prima di lasciare Orval in quel giorno terribile. Beatrice di Lorena era una donna saggia ed esperta. Aveva anche degli occhi attenti, non le era sfuggito l'appassionato seppure silenzioso scambio di sguardi fra la figlia e il nuovo papa durante la cerimonia di investitura. Ecco una relazione che andava coltivata se mai ce ne fosse una. L'alleanza della sacra romana chiesa con la potente ricca toscana aveva tutto il potenziale per diventare una forza inarrestabile. Quando più tardi quel pomeriggio venne il momento di recarsi all'udienza con il papa insieme alla figlia dichiarò di essere sfinita e insistette perché Matilde andasse da sola. Era una donna sposata e una contessa per diritto di certo non le serviva un'accompagnatrice per recarsi al cospetto del papa. Matilde fu scortata nelle stanze per le udienze dove aspettò solo un istante prima che la porta si aprisse per far entrare Gregorio. Pregò che lui non potesse sentire il rumore del cuore che le martellava nel petto perché nelle sue orecchie rimbombava come il suono di dieci tamburi di guerra. Il pontefice le tese la mano e lei baciò l'anello papale piegandosi in un profondo inchino. Si schiari la voce mentre alzava lo sguardo, gli occhi color acquamarina che incrociavano quelli di lui grigi come l'acciaio. Sono venuta a garantire la fedeltà della Toscana alla causa di San Pietro. Potete contare sul mio appoggio e su quello del mio popolo per tutto ciò che occorre a preservare e proteggere gli insegnamenti di Gesù come punto focale delle nostre comunità e a far rispettare la vostra lezione come apostolo scelto per guidare la chiesa. Gregorio la ringraziò per quella promessa di fedeltà colpito dalla forza della sua affermazione e le fece segno di sedersi. Dopo alcuni convenevoli durante i quali si informò della salute della madre e le chiese di portare i suoi saluti al vescovo Anselmo, il papa stupì Matilde con una domanda oltraggiosa. Mi pare di capire che siete dedita alle antiche eresie che sono ancora preservate e a Luca. Come devo interpretare la cosa? Matilde sedeva immobile in trappola. Aveva creduto che quell'uomo fosse un alleato a causa del sostegno che aveva dato ad Alessandro ma forse aveva fatto male i calcoli. Matilde pensò in fretta cercando di escogitare una risposta sicura per guadagnare tempo. Non ce ne fu bisogno e il papa riprese quasi subito. Oh non è mia intenzione mettervi a disagio con questa domanda piuttosto vorrei farvi sapere fin dal principio del nostro rapporto che so benissimo chi siete e da dove venite. Io sono il papa eletto all'unanimità dal clero e dal popolo perché sono pratico dei problemi che deve affrontare la mia chiesa. Non può stupirvi che al mio orecchio siano giunte voci sull'eresia che si diffonde dalla Toscana. Matilde a noi ma continua a tacere. Gregorio allora le rivolse un largo sorriso sforzandosi di dissipare le sue preoccupazioni. Non avete nulla da temere con me Matilde di Canossa. Non sono nato con la vocazione per il sacerdozio e non ho alcuno dei pregiudizi tipici della visione ristretta di chi mi ha preceduto. Mi piace pensare a me stesso come a uno studioso un uomo che imparerà da zero che cosa significa essere cristiano non ripetendo gli insegnamenti popolari ma studiando tutti i documenti e le tradizioni che sono a mia disposizione. Inoltre mio nonno era un ebreo il che amplia ancor più la mia prospettiva religiosa e il mio desiderio di apprendere. Alcuni mi applaudirebbero per questo altri mi disprezzerebbero mi dicono che le tradizioni di Lucca per quanto sconvolgenti per molti custodiscono profondi segreti e possono essere attribuite direttamente ai cristiani primitivi. In effetti addirittura a coloro che erano contemporanei di Gesù compresa la sua famiglia. Che razza di guida spirituale sarei se proprio io non analizzassi a fondo quelle tradizioni e quegli insegnamenti? Ho passato troppo tempo a Lucca sia con Anselmo il vecchio sia con Anselmo il giovane per non capire che il cristianesimo lì conosce diversi livelli di espressione. Per chi ha occhi per vedere e orecchi per intendere no? Perciò Matilde abbiamo molte cose di cui parlare se voi siete propensa a farlo. Matilde dovette sforzarsi di trovare la voce. Camminava su un terreno pericoloso così replicò sottovoce mi state chiedendo di istruirvi sulle usanze dell'ordine? Se siete propensa a farlo. Lei annui a quel punto in soggezione per la peculiare situazione in cui si era appena ritrovata. Era possibile che il papa in persona la stesse pregando di istruirlo sulle usanze dell'eresia? Il capellano entrò nella stanza per informarli che c'era un altro appuntamento in attesa e che l'udienza doveva terminare quando il prete alle sue dipendenze si congedò. Gregorio tese la mano a Matilde ma stavolta afferrò la sua e se la portò alle labbra. Nel farlo notò l'anello e ne approfittò per tenerle la mano qualche istante più del necessario. Che cosa simboleggia? Matilde gli rivolse un sorriso seducente sentendo che riprendeva finalmente il controllo in quella lunga e faticosa giornata. Non posso ancora dirvelo ma sarà parte della vostra istruzione. Capisco. Bene sono ansioso di darvi inizio. Desidererei che ci incontrassimo già domani per la prima lezione. Mi sarò molto lieta. Santo padre. Matilde uscì con un'ultima riverenza e un elegante fruscio di seta. Lui la guardò andar via sorpreso dalla propria reazione. L'uomo che era ormai noto al mondo come papa Gregorio VII, il pontefice che aveva istituito con successo la regola del celibato per gli ecclesiastici come principale riforma, aveva appena perso il cuore e forse anche un po' la testa per la straordinaria e seducente contessa di Toscana. Scoppiare in lacrime non era da Matilde. Così donna Isabella di Lucca restò impietrita e allarmata davanti ai fiumi che sgorgavano dagli occhi della sua protetta dopo il secondo incontro con Gregorio VII. In modo impulsivo e inaspettato il nuovo papa aveva convocato Matilde a consiglio, subito dopo il banchetto per l'investitura, per discutere di questioni strategiche in merito a una faccenda critica che aveva ereditato da Alessandro. Il precedente pontefice poco prima di morire aveva scomunicato cinque dei vescovi tedeschi di Enrico e aveva censurato il re per aver venduto loro le cariche. Lo stesso Enrico rischiava la scomunica se non si conformava a quel decreto papale e non riconosceva la censura dei suoi vescovi deponendoli all'istante. Era una palesiazione di guerra, quella che Gregorio intendeva sostenere. Gli occorreva la certezza che Matilde lo avrebbe appoggiato dai suoi territori della Toscana se fosse stato necessario. Il loro incontro era stato un intenso e stimolante gioco di arguzia e celia alimentato in egual misura da entrambe le parti. Era un tributo all'astuzia di entrambi il fatto che fossero stati capaci di avere una conversazione politica produttiva malgrado la loro straordinaria attrazione reciproca. Ognuno dei due aveva dato all'altro l'opportunità di riassumere il suo modo di pensare e i suoi approcci strategici e aveva scoperto che erano compatibili in tutti i campi in modo pressoché inspiegabile. Era stato un incontro proficuo ed euforico fra due grandi spiriti. Quando erano insieme nella stessa stanza si verificava un'innegabile fusione di immense forze della natura, un incontro di astri che creava una straordinaria esplosione di luce. Gregorio aveva concluso l'incontro ricordando a Matilde che gli aveva promesso che l'indomani avrebbe cominciato a istruirlo alla via così come veniva insegnata ininterrottamente dall'ordine sin dal primo secolo dopo Cristo. Era questa la fonte dell'attuale costernazione di Matilde e della sua atipica instabilità. Oh Isabella, è saggio come Salomone e altrettanto magnifico. Mi sentivo Macheda, la regina di Saba, in persona, in sua presenza. È stato come provare tutto quello che mi hai insegnato, quello che in cuor mio pensavo che non avrei mai conosciuto. Oh, che devo fare? Quello che chiede è assurdo ma è anche una meraviglia. Posso insegnargli queste cose? Avrò il coraggio di insegnargliele? Che cosa ti dice il cuore, bambina? E il tuo spirito? Che devo fidarmi di quest'uomo e anche di più. Di più? Non so spiegarte Loisa ma non appena l'ho visto l'ho riconosciuto. Io lo avevo già incontrato in una delle mie visioni ma in quel momento c'è stato qualcosa di più. Ho conosciuto un attimo di felicità immensa e poi quando mi ha guardato è stato come se un coltello mi avesse trafitto il cuore. C'è stato un secondo davanti a tutta la corte all'assemblea del laterano in cui ho avuto la sensazione che ci fossimo soltanto noi due nella sala. Come è possibile? Ma in quell'istante io l'ho riconosciuto e ho capito. Esitò a quel punto, persa nel ricordo di quel momento e ammutolita per la travolgente infatuazione che l'aveva accompagnato. Era una sorta di follia quell'emozione. Non aveva mai provato niente del genere. Era terribile e meravigliosa e del tutto paralizzante. Isabella dovete incoraggiarla a continuare. Vai avanti Tilde. Ho capito che lo avevo già amato prima. In quel singolo istante ho dato all'insegnamento della nostra profetessa e alla poesia di Massimino un significato nuovo. Ti ho amato prima, ti amo oggi e ti amerò ancora. È stata una cosa così strana eppure così eterna e credo che lui provi lo stesso sentimento. L'ho capito da come mi ha guardato. Lui lo sa, proprio come me, che c'è un destino in atto qui. E la cosa non lo spaventa, penso, ma spaventa me. Matilde si alzò e cominciò a misurare la stanza a grandi passi. Non era capace di starsene seduta la maggior parte delle volte, figuriamoci, quando era così agitata. Si tirò sulla gonna e continuò. Perché? È terrificante, no? Questa sensazione non c'è possibilità di controllarla. Sono stata in battaglia e ho affrontato gli uomini più crudelli sul campo, quelli con le spade più affilate, le intenzioni più cattive. Eppure non ho mai provato la paura che ho in questo momento. Non riesco a respirare, Isabella. aiutami. Isabella emise un profondo sospiro mentre prendeva la mano di Matilde fra le sue. Oh, tesoro mio, non posso aiutarti se non dicendoti che quello che senti, per quanto sia difficile, forte e travolgente, è sempre il più grande dono divino. Ho sempre saputo che quando ti sarebbe successo sarebbe stato estremamente importante. Magari persino una relazione in grado di cambiare il mondo, non distante dal modello di Veronica e Pretorio, se non addirittura degli altissimi Salomone e Macheda. Ma non avrei potuto prevedere... prevedere? Cosa? Che l'uomo con cui eri destinata a scoprire l'amore, l'amore grandissimo di cui parla la profezia, sarebbe stato addirittura il papa? Isabella si fermò un istante a riflettere su quale fosse il consiglio migliore che poteva dare alla sua preziosa bambina in quel momento cruciale della sua vita. Tilde, dovrai essere terribilmente cauta. Entrambi avete troppo da perdere nel caso di un'indiscrezione, ma penso che tu abbia molto più da perdere se non segui questa strada e non vedi dove ti conduce, perché sembra che ciò sia stato stabilito dalla provvidenza. Non c'è bisogno di essere una profitessa per sapere che incontrerai enormi sfide e momenti difficili in conseguenza di questo amore. Un amore che per sua stessa natura deve rimanere per sempre segreto al resto del mondo. Nessuno deve sapere e tu non potrai mai farti sfuggire che avete avuto rapporti intimi. Mai. Ma non ne abbiamo avuti. Non ancora, Tilde, non ancora. Ma certe cose sono inevitabili e questa sembra una di quelle. Ricordati che l'intimità fra voi due verrà giudicata sbagliata, persino delittuosa se verrete scoperti. Avete nemici potenti che approfitterebbero di un simile reato e lo userebbero per distruggere entrambi. Fai quel che vuoi, fai quel che devi, ma ricordati di usare discrezione a tutti i costi. Lui è il Papa e tu sei una donna sposata. Questi sono fatti innegabili e immutabili. Posso divorziare da Goffredo. Puoi? Legalmente forse. Ma la Chiesa è contraria al divorzio e non puoi aspettarti che il Papa appoggi quella decisione. E di certo non questo Papa che è stato scelto proprio per la forza con cui sostiene le riforme severe. E una simile azione non farebbe altro che attirare l'attenzione sulla vostra relazione. Vi siete messi in trappola con le vostre mani, tesoro. Ma sono sicura che troverete un modo per farlo funzionare. Se questo è davvero il grande amore della profezia, l'amore trova sempre una via, Matilde. Supera le leggi dell'uomo perché è una legge divina. Il rito dell'unione sacra, lo Ieros Gamos, fra veri innamorati dell'anima, è la legge più alta che trascende tutte le altre e questo è tutto quello che ti serve sapere, no? C'è solo una cosa a cui devi rimanere fedele nei giorni a venire ed è l'insegnamento più semplice della nostra via. L'amore vince tutto.